Ancora annunci a vuoto dal comune di Bassano, non sono partiti i lavori alla scuola di Sant'Eusebio. La pavimentazione del Ponte Vecchio, che già presenta le prime crepe, era stata bosciata dalla Commissione. Lutto a Bassano è morto ad 82 anni, Giovanni Gian Battista Cenere, la sua impronta sulla moda e sul commercio. Un videogioco e un'app regalano all'altopiano centinaia di alberi per rimpiazzare quelli distrutti da vaia. Primo colpo di ruspa, l'ex base nato di Cimagrappa, giornata storica per l'area riserva Unesco. Ai Bassanesi non piace l'inalzamento dell'età pensionabile, non vogliamo tornare alla Fornero, dicono. Addio a Candido Fior, se n'è andato a 79 anni il ceramista della natura, i funerali si sono svolti oggi. Prende il via con un parcheggio, la riqualificazione dell'area ex Grosoli di Cadoneghe. Per i 700 anni della morte di Dante, San Giorgio in Bosco ha realizzato un greeting con il sindaco Conservera per il futuro. Buonasera a tutti voi telespettatori, edizione serale di Bassano TG. Apriamo subito il nostro telegiornale con i lavori alla scuola di Sant'Eusebio. Perché, differentemente da quanto dichiarato dall'assessore Zonta, dal cantiere non è neanche un'ombra. Scuola elementare e materna di Sant'Eusebio, ricorderete cosa ha dichiarato il 12 settembre scorso l'assessore Zonta in merito all'inizio dei lavori di sistemazione e ampliamento della struttura. Credo proprio il giorno 20 la ditta affidataria avrà l'incarico per l'inizio lavori e dopodiché la ditta potrà iniziare dal giorno dopo i lavori a Sant'Eusebio. È passata già una settimana e siamo tornati a vedere com'è la situazione. In questi giorni la ditta che ha preso l'appalto per i lavori all'interno della scuola di Sant'Eusebio avrebbe dovuto iniziare almeno ad allestire il cantiere per poi partire ai primi di novembre con tutti i lavori, come ha dichiarato l'assessore Zonta. Siamo il 26 di novembre, il 20 dovevano partire ma dentro niente. Non si vede nessuno, non si vede niente, non si vede alcun macchinario e soprattutto non si vede un operaio al lavoro. Niente, nemmeno il cartello che segnala l'apertura del cantiere ed è inevitabile che le tante famiglie interessate si sentano prese in giro. A oggi i bambini e le bambine sono stati trasferiti alle Canossiane di Viale dei Martiri e ci staranno sino al termine dei lavori. È il termine dei lavori. Loro hanno nove mesi per terminare i lavori e pertanto dal 20 di ottobre al massimo entro il 20 di luglio, se non sbaglio i calcoli, i lavori devono essere terminati. Speriamo bene perché al momento una sola cosa è certa, i lavori non sono ancora iniziati. Parliamo della pavimentazione del ponte appena resta usato che presenta già una crepa. Qualcuno si ricorda di quello che la Commissione aveva scritto nelle scelte tecniche annunciate dal Comune? Vi ricordate della Commissione locale per il paesaggio e della relazione che gli esperti avevano presentato al Comune? Noi sì, perché quella relazione metteva nero su bianco un parere molto critico sulla pavimentazione scelta dall'amministrazione di Elena Pavan per il ponte. Il simil terrazzo veneziano con sassi della Brenta era stato bocciato così. La soluzione progettuale prevede l'utilizzo di materiali incompatibili con il restauro, si legge nel documento, che parla anche di incompatibilità estetica e relativa alla materia con il luogo in cui viene collocata. Parole che erano finite nel vuoto, inascoltate, come le opinioni dei bassanesi sulla tipologia di pavimentazione da applicare al monumento restaurato. Ma i nodi vengono al pettine, dice il vecchio adagio, e le crepe vengono sul pavimento, proseguiamo noi. E così sono in molti a ricordarsi dei documenti sottoscritti dalla Commissione proprio ora che una crepa si è fatta viva sulla pavimentazione scelta dall'amministrazione di Elena Pavan alla faccia del commento tecnico non vincolante, ricordiamolo, degli esperti. Quindi, per tirare le somme, quella che era stata presentata come la migliore soluzione esistente oggi mostra dei limiti. Limiti non strutturali e che non mettono certo in pericolo il ponte ma che gettono nuova luce sul modo in cui il municipio ha fatto le sue scelte. Con il senno di poi si potrebbe dire che forse andava ascoltata la Commissione ma del senno di poi sobbiene le fosse e forse pure le tasche di chi non viene ascoltato mai. Giornata storica per il Monte Grappa perché oggi è stata demolita l'ex base Nato un intervento che era stato atteso da anni. Un abbattimento atteso da anni, una giornata storica per il Grappa un passo importante sul sentiero per dare lustro a tutta l'area tracciato a inizio settembre con il riconoscimento del Monte Grappa come riserva di biosfere Unesco. Alla presenza del commissario generale per le onoranze dei caduti il generale Gualtiero Mario De Cico sono iniziati i lavori di demolizione dell'ex base Nato nell'area del Sacrario di Cima Grappa. L'obiettivo è quello di ridare alla montagna un aspetto fiero e incontaminato. Questo abbattimento per noi significa restituire decoro e dignità all'area Sacra quindi ripristinare l'aspetto originale di quando è stato costruito il Sacrario negli anni 30 e soprattutto si restituisce alle comunità locali la montagna nella sua naturale stato originale. Inizialmente previsti per i primi mesi del 2022 i lavori di abbattimento hanno subito un'accelerata grazie anche all'intervento della Regione Veneto. L'attività sostanzialmente comprende due fasi una prima fase che è iniziata questa mattina della durata di circa 10 giorni che prevede la demolizione vera e propria dell'ex base Nato delle strutture annesse, di un traliccio per le comunicazioni che si trova nella zona retrata del sito in cui ci troviamo. Successivamente si avvierà una seconda fase che è la fase di recupero dei materiali inerti e di triturazione dei residui. Anche quella dovrebbe avere all'incirca una durata di 20 giorni lavorativi sempre salvo condizioni favorevoli dovremmo concludere questa attività entro il mese di novembre. In primavera si provvederà a ricoprire l'area della demolizione con terreno, piante e alberi per ricostruirne l'aspetto originale. Il passo successivo sarà il restauro di tutto il complesso di Cimagrappa con i sepolcreti, la caserma Milano e la galleria Vittorio Emanuele III. E alla cerimonia di abbattimento erano presenti alcuni sindaci della cintura del Grappa e a loro abbiamo chiesto cosa rappresenta questo giorno nell'ottica della valorizzazione di un'area riconosciuta riserva biosfera UNESCO? Un progetto che serve anche a valorizzare di più questa zona una zona considerata sacra ma una zona anche che vede tante possibilità recettive per quello che riguarda il turismo. Sì, certamente, questo era un intervento che noi aspettavamo da tempo sappiamo quelle che sono le lungaggini amministrative però oggi è una giornata importante per il Grappa dal punto di vista simbolico perché finalmente si vede qualcosa che muta, che va avanti. Questo immobile rappresentava una ferita per il territorio del Grappa e quindi la sua eliminazione dà una nuova iniezione di fiducia. Il percorso di valorizzazione del Grappa da parte delle amministrazioni della cintura del Grappa è partito già molto tempo fa certamente oggi è un giorno importante io devo dire che mi sono davvero emozionato nel vedere l'inizio dell'abbattimento di questa base nato credo che da oggi la riserva di biosfera del Mab Grappa sia ancora più bella proprio perché è stata liberata da un edificio in disuso e soprattutto che era un obrobrio per un territorio così bello. Oggi anche il riconoscimento della biosfera impone un ragionamento di riqualificazione di certi spazi che non possono più essere lasciati così. Questo tra l'altro ha sempre creato l'abbasenato problemi di sicurezza, problemi di intrusioni era comunque un luogo molto critico per tutta la vallata per tutto il territorio. E i boschi dell'altopiano devastati da Vaia tornano alla vita grazie ad un'app e ad un videogioco. Sono passati tre anni da quando la tempesta Vaia si è accanita anche sull'altopiano dei sette comuni devastandone i boschi però oggi si può ripartire c'è anche una strada per ricominciare e per dare un nuovo volto all'altopiano. Sono abeti bianchi e rossi, betulle, faggi, larici e aceri tutte specie autoctone dell'altopiano che sono state piantate nelle aree sconvolte da Vaia grazie a un progetto che ha coinvolto Etra, il comune di Asiago e l'Unione Montana con un concorso scolastico molto particolare. Tramite l'app Mr. Biden gli studenti degli istituti del bacino di Etra si sono sfidati virtualmente con un videogioco green che metteva in premio alberi veri per dare nuova vita alle foreste dell'altopiano. Siamo partiti proprio dall'app perché sono quei mezzi che usano di più i ragazzini, i nostri figli per poi arrivare invece a qualcosa di concreto che è la pentumazione di alberi e quello era il loro premio quindi da qualcosa di virtuale a qualcosa di molto reale ecco l'importanza poi ambientale non serve che la descriva io insomma abbiamo tentato di dare un contributo come Etra alla cicatrizazione di quella ferita che Vaia ha provocato sul nostro territorio. Il contest scolastico è stato vinto dall'istituto Newton Pertini di Campo San Piero i cui studenti hanno letteralmente regalato 600 alberi all'area devastata dal ciclone nei pressi di Forte Interrotto un regalo che fra qualche anno donerà un volto nuovo al colle che domina la Piana di Asiago. Ci ha fatto anche impostare nuove forme di progettualità per garantire che il nostro patrimonio che il nostro ambiente possa essere preservato in favore delle future generazioni. Credo che l'iniziativa di oggi abbia appunto il pregio di portare i giovani vicino all'ambiente garantendo loro un premio che è dato dalla fisicità di un albero di un abete che viene piantumato che viene fisicamente installato nel terreno. Vaia ha lasciato ferite profonde sulla montagna Veneta ferite che però possono essere curate. Ce n'è bisogno dopo che tre anni fa c'è stato l'uragano Vaia che ha devastato gran parte dei nostri boschi era importante dare un segnale e coinvolgere anche i ragazzi. Credo che l'iniziativa di Etra abbia una marcia in più rispetto ad altre iniziative proprio perché è riuscito a mettere insieme il virtuale coinvolgendo i ragazzi con questa app dove si sono sfidati con quello che è il mondo reale e quindi la necessità di ripiantumare le piante. E si è spento Giovanni Battista Cenare nella notte di lunedì storico commerciante bassanese ha contribuito moltissimo alla bellezza di Bassano. Eleganza raffinata estro e creatività così Gian Battista Cenare detto Titta ha rivoluzionato la moda di tutto il territorio bassanese demistificando la tradizione e distinguendosi per il suo stile rivoluzionario e visionario. Tutti ricordiamo le famose Margherite di Via da Ponte io ho vissuto con lui da ragazzino naturalmente gli anni 70 gli anni 80 erano anni in cui la Via da Ponte era non solo il nucleo e il fulcro del commercio bassanese ma era vorrei dire quasi una comunità si respirava sette giorni su sette quest'aria di 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 ottimismo. Legatissimo alla famiglia si è spento nella notte di lunedì all'età di 82 anni lascia un immenso patrimonio artistico e culturale ai due figli Vittorio e Teresa e alla moglie Carla da sempre al fianco dell'iconico commerciante di abbigliamento come compagna di vita e braccio destro negli affari le sue era un negozio permettetemi chiamarla bottega come voleva sempre chiamarla lui che era conosciuto ben oltre i confini della provincia della regione noi osavamo sempre dire comunque lui era avanti dieci anni rispetto agli altri simbolo dell'eleganza e dell'eccellenza bassanese amante del bello è riuscito a proporre un nuovo concetto di immagine sia maschile che femminile se ne va via un gigante del commercio bassanese dalla raffinatezza senza tempo e che ha sempre saputo essere moderno lui si avvicinava sempre con molta discrezione ti diceva una parola sulla tua attività sulla tua vetrina sulle tue cose veniva lì ti dava sempre un consiglio anche semplice a volte nulla di che ecco ricordiamoci tutti questi consigli e mettiamoli in atto perché sono sicuro che quello che abbiamo vissuto nel passato sarà molto importante per il futuro è inaugurata a Romano Dezzelino la nuova palestra all'aperto avanti no non c'è ora invece vediamo alcune notizie dal territorio Cassola entro il 2 novembre ci si può iscrivere al corso per diventare guardia ecozoofila tutte le info sul sito del comune San Zenone degli Ezzelini l'amministrazione comunale informa i residenti di via Boschier che lo stallo dei lavori di costruzione della pista ciclabile della nuova intersezione con la strada provinciale 20 è dovuta alla necessità di completare altre opere Romano Dezzelino viene disposto di vieto di transito il 27 ottobre dalle 8.30 alle 11.30 dalle 14.30 alle 17.30 in via Conti per la riqualificazione a led della pubblica illuminazione Schio sono iniziati gli interventi di rialzo dell'argine della roggia maestra Marano lungo il parco pubblico di via Curtatone ad opera del consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta Sarcedo il 28 ottobre dalle 18 in sala consigliare sarà possibile usufruire dello sportello energia itinerante Bassano pubblicato un bando per la distribuzione di buoni spese destinati a famiglie in difficoltà per la pandemia le domande dovranno essere presentate tramite il portale predisposto San Giorgio in Bosco stanno terminando i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nei cimiteri comunali in vista delle festività dei santi e della commemorazione dei defunti Cartigliano appuntamento per i bambini dai 3 agli 8 anni il 27 ottobre alle 16.30 nella casa del custode con letture nel baule all'aperto e prende il via con un parcheggio la riqualificazione dell'area ex Grosoli di Cadoneghe uno spazio enorme che strappato al degrado verrà restituito ai cittadini si chiama Piano Grosoli e i cittadini di Cadoneghe dei comuni vicini lo aspettavano da 30 anni finalmente si inizia con i fatti a strappare al degrado e all'abbandono un'area di circa 5 ettari che fa parte della storia gloriosa del territorio che ha rappresentato il boom economico con la grande azienda di carni Grosoli un'area che poi è diventata però sinonimo di degrado ora a fare la differenza è l'accordo pubblico privato e così l'ambizioso progetto di riqualificazione urbana avviato in collaborazione con il gruppo Ali proprietario dell'area inizia ma è appunto solo l'inizio con la realizzazione di un parcheggio in via Montale e piazza della Repubblica 16 posti auto recuperati e ampliati e per la prima volta a Cadoneghe si sono utilizzati materiali completamente drenanti dall'asfalto alle betonelle forate per evitare allagamenti in caso di forti piogge è un'opera la quale noi teniamo molto perché è il primo parcheggio interamente eco sostenibile a zero impatto ambientale che permetterà a tutte le piogge di drenare rapidamente senza creare quegli invasi e quelle acque stagnanti proprio perché è al 100% drenante anche tutti gli interventi futuri del piano Grosoli hanno come priorità il rispetto dell'ambiente e la piantumazione di nuovi alberi poi a primavera partiranno anche i lavori nell'area dell'ex macello industriale Grosoli per la creazione di un nuovo quartiere residenziale con ampie aree verdi l'area dell'ex Grosoli è un'opera importante stiamo concludendo le fasi burocratiche ma prima di realizzare quell'importante opera ce ne sono tante altre disseminate sul territorio propedeutiche appunto e preliminari all'area Grosoli un piano che prevede l'impegno sociale di Ali a favore del comune e dei suoi cittadini con un parco urbano 500 alberi piste ciclabili marciapiedi rotatorie e l'allargamento di alcune strade e per i 700 anni dalla morte di Dante San Giorgio in Bosco ha realizzato un singolare reading che il sindaco conserverà per il 2021 un'opera di eterna grandezza la commedia di Dante il sommo poeta di cui il 2021 celebra i sette secoli dalla morte un singolare omaggio lo ha reso San Giorgio in Bosco che il 16 ottobre ha proposto i versi della poema in un singolare reading intitolato Dante Andrè nel nome del sommo poeta un'esperienza di lettura e interpretazione della commedia partita dalla lettura d'Antis con i cittadini iscritti a Reading Academy lettura diventata dipinti nelle tavole di Federica Poppi e tradotta in recitazione dei lettori grazie alla regia di Nicoletta Maragno tutto sarà conservato in una cassetta rossa dal sindaco di San Giorgio in Bosco Nicola Pettenuzzo che ha letto e interpretato il celeberrimo canto di Ulisse una cassetta pronta per l'ottocentenario del 2.121 e si sono svolti nel pomeriggio di oggi nel Duomo di San Martino di Luperi i funerali di Candido Fior 79 anni era noto come la ceramissa della natura viveva e lavorava a San Martino di Luperi dove si è spento Candido Fior nato nel 1942 per tutta la vita aveva fatto della scultura e della ceramica in particolare la sua forma prediletta di espressione sculture essenziali ruvi delle sue frutto di studio continuo e sperimentazione formatosi alla scuola d'arte i Carmini e poi all'Accademia di Venezia aveva lavorato nel laboratorio di Alessio Tasca a nove un esordio giovanissimo alla Biennale di Venezia nel 1962 produceva pezzi unici come animali tronchi d'albero ciottoli per arrivare poi a creare piccole serie amava le forme elementari una lavorazione diretta dei materiali che era arrivato anche a fondere insieme per lunghi anni è stato inoltre docente al liceo artistico di Treviso Sport in casa questa sera condotto da Alex Giuliano si parlerà del settore giovanile del calcio rosà focus 21.15 in diretta gli ospiti saranno Riccardo Barbisan Barry Mason Leonardo Padrin Pietrangelo Petteno Simonetta Rubinato Michele Toaldo in chiusura di telegiornale guardiamo che tempo farà domani non ci sono altre notizie per questa nostra edizione ringrazio tutti voi per essere stati in nostra compagnia arrivederci ringrazio tutti voi 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 Grazie a tutti.